ciao a tutti accordiani sono andrea martongelli chitarrista della heavy thrash metal band artemis e sono qui oggi per presentarvi la mia nuova chitarra ding guitar signature screaming ninja andrea martongelli eccomi qui allora con questa con questo pezzo di legno questo pezzo di mogano con quattro controlli allora due per i volumi e due per i toni colpo in mogano appunto ponte tunomatic due pick up emg 8185 un selettore a tre posizioni tastiere in palissandro e segnatasti in madreperla la stella al dodicesimo tasto la stella degli artemis e come potete vedere appunto abbiamo sul copy trust road a specchio abbiamo la scritta l'ideogramma ninja ok in giapponese e ovviamente sul retro della paletta abbiamo la mia firma e meccaniche groover allora ci vediamo presto e stay metal